La Gran Sassoacqua è pronta a cambiare ben 28.000 contatori con dispositivi digitali più moderni, questo con risorse del PNRR, anche se l'azienda conta di cambiare tutto il parco contatori, anche con risorse proprie, entro il 2025. Quindi ai 28.000 si aggiungeranno altri 34.000 nuovi contatori. Buone notizie per l'azienda che gestisce il ciclo idrico integrato dell'Aquila e altri comuni, che ha chiuso il bilancio con risultato positivo superiore ai 300.000 euro e con ricavi in aumento 1,5 milioni di euro il più. I vantaggi sono di diversa natura. Per quanto riguarda l'utente c'è il vantaggio della lettura certa e quindi del pagamento dei consumi effettivi, superando le letture presunte oppure le bollette cumulative a compensazione delle letture presunte. Per l'azienda è importante in quanto in tempo reale riusciamo a sapere i consumi e quindi evitiamo appunto, come detto prima, le letture presunte e dunque abbassiamo moltissimo le perdite, perché le perdite in buona parte sono, diciamo, fittizie, cioè sono dovute a non letture dei consumi. Un'azienda in salute per il neopresidente Ivo Pagliari, con idee e una digitalizzazione in corso importante, infatti si stanno digitalizzando anche le rete idriche. È un'innovazione in quanto ci permetterà di gestire anche da remoto le pressioni e le portate dei singoli distretti della rete e quindi con la gestione della pressione riusciremo a gestire anche le perdite e dunque alla fine abbassare le perdite.